Grazie all'otto per mille sarà riaperta la chiesa di Pannesi a Lumarzo, inagibile a causa delle troppe infiltrazioni, i lavori partiranno a breve. Primavera con l'ombrello, in arrivo una perturbazione che porterà temporali sulla Liguria, è previsto un abbassamento delle temperature. Il Cyber Defense Symposium, Chiavari per due giorni capitale della lotta al terrorismo informatico e delle nuove frontiere della sicurezza. Formazione, il villaggio del ragazzo traccia il bilancio dell'anno in corso e delinea la progettazione futura. Incontro a San Salvatore con gli enti firmatari della Convenzione. Il sorriso in uno sguardo, la foto di Chiara Manfredini, ha vinto il concorso Credere, non credere, proposto dal servizio di pastorale giovanile della Diocesi. Perdoni e accoglienza i temi affrontati. Tre giorni di esercizi spirituali in preparazione alla Pentecoste per le parrocchie di Santa Margherita Ligure. Da qui scatturerà il nuovo consiglio pastorale cittadino. Nuovo laboratorio ortottico a Mezzanego, intitolato a Maria Luisa Costa, aperto grazie al contributo dei Lions e della Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones. Gentili interesperatori all'ascolto, buonasera, benvenuti nei nostri studi. La Chiesa Cattolica, grazie ai fondi derivanti per l'otto per mille, sostiene molte opere importanti. Questo avviene anche nella Diocesi di Chiavari. Si può sostenere concretamente senza spesa l'impegno della Chiesa, apponendo la firma dell'otto per mille nella dichiarazione dei erediti che vanno consegnate proprio in questo periodo dell'anno. Un intervento particolarmente atteso, che inizierà a breve, è quello di ristrutturazione della Chiesa parrocchiale di Pannesi a Lumarzo, che è rimasta inagibile fino ad oggi. Vediamo il servizio che abbiamo preparato. Nella Diocesi di Chiavari sono molti gli interventi sugli edifici sacri che si stanno svolgendo grazie ai contributi dell'otto per mille alla Chiesa Cattolica. Uno particolarmente importante è quello alla Chiesa di Pannesi di Lumarzo, dichiarata inagibile a seguito delle numerose infiltrazioni che hanno portato quasi al collasso la struttura, esponendola al rischio crolli. Faremo un intervento intorno ai 240 mila euro complessivi. Ci aspettiamo quindi un contributo da parte della CEI, che è fondamentale, di 120 mila euro. Comunque tenuto conto, un 80 mila euro ad oggi disponibili nelle casse della parrocchia rimangono comunque ancora da recuperare sul territorio altri 40 mila euro. Ed è l'intervento minimo necessario per poter consentire un minimo riuso di questo edificio. La Chiesa di Pannesi era in lista per il contributo da dieci anni. Ora i lavori possono iniziare perché la comunità ha raccimolato i fondi per iniziare l'opera, che consisterà in una messa in sicurezza dell'edificio dal punto di vista statico per scongiurare il rischio frana e il rischio crolli, sia dal tetto che dal campanile. Solo questo per l'involucro esterno fondamentale. Non parliamo degli interni. Gli interni comunque necessiteranno di interventi anche importanti proprio sui controsoffitti e sulla parte punto alta. Tutto questo è possibile pensare di fare questo tipo di intervento solo e soltanto con un contributo tipo quello della CEI. Non c'è nessun altro contributo. Ad oggi tutti gli enti, regione, diciamo anche la stessa fondazione, ad oggi sono comunque fermi su questo tipo di interventi. L'unico intervento che veramente sostiene il recupero del nostro patrimonio ad oggi e da oltre 20 anni e se non di più da quasi 30 anni circa è proprio la CEI e che dà questa garanzia della fattibilità dell'intervento. E ora uno sguardo al meteo. Per le prossime ore attesa è infatti una fase molto instabile a tratti perturbata con piogge intense che per quanto riguarda il nostro Tigulio inizieranno a partire proprio dalla serata di domani. Ce lo confermano i previsori del centro meteo Ligure. Ne ascoltiamo. In che modo evolverà la situazione meteo nelle prossime ore? Si sta approfondendo in queste ore una depressione sulla Spagna che condizionerà il tempo di domani e anche di dopodomani. Arriverà un primo fronte primaverile più intenso rispetto a quelli che ci hanno interessato fino adesso. Ne veniamo da aprile tutto sommato suscitoso. Domani le precipitazioni saranno moderati o barra forti sul Tigulio, sulle nostre zone e anche sul Genova esatto è previsto un acquirci dei fenomeni quasi sul finire di domani, nella seconda parte. Quindi dal tardo pomeriggio o sulla sera si attiveranno le precipitazioni più intense. E poi l'instabilità continuerà nella giornata successiva, quindi su giovedì notte e la prima mattina, con della possibilità anche di qualche scroscio temporalesco. Quindi si sentiranno i primi colpi di tuono della stagione. È previsto anche un abbassamento delle temperature? Sì, chiaramente sotto le precipitazioni potremmo perdere qualche grado. Non entreremo però per i momenti in un periodo eccessivamente freddo. Quindi diciamo che nel complesso rimane abbastanza mite. Chiaramente anche nella giornata di oggi, domani e dove dico nella copertura del cielo dei fenomeni rispetto ai giorni scorsi, le massime, soprattutto i valori del giorno, saranno inferiori anche di 4-5 gradi. Dopo un periodo, come hai detto tu, relativamente siccitoso, come quello che abbiamo affrontato, questa perturbazione può rivestire qualche carattere di preoccupazione per il nostro territorio? Il passaggio sembra abbastanza rapido, appunto concentrato tra domani sera e nella notte. Quindi direi che saranno soprattutto piogge benefiche, soprattutto per i risvolti agricoli. Non c'è un carattere di blocco anche del sistema perturbato, quindi direi di no. Una parte delle persone immigrate che sono state ospitate a Belpiano, nelle comune di Borzonasca, sono state accompagnate nella giornata di oggi in altri centri di accorienza sul territorio della provincia di Genova. L'esigenza di diminuire il numero dei richiedenti asilo ospitati nel piccolo centro della Valle Sturla era stata segnalata alla prefettura di Genova nel corso di una recente riunione con i rappresentanti del Lanci, l'Associazione dei Comuni, insieme al prefetto di Genova, Fiamma Spena. Il sindaco, Giuseppino Maschio, aveva chiesto di poter ospitare un numero di immigrati congruo rispetto alle dimensioni del comune. Sempre nella giornata di oggi si è conclusa anche la ricollocazione delle persone immigrate che erano ospitate nel centro di prima accoglienza di Ventimiglia. L'obiettivo è quello di offrire un'accoglienza adeguata, evitando le grosse concentrazioni di persone. Le nuove frontiere nella lotta al terrorismo informatico, le strategie civili e militari per difendersi dagli attacchi virtuali e soprattutto reali. Sono le tematiche che vengono affrontate nel corso del Symposium in corso di svolgimento a Chiavari presso l'Auditorium San Francesco promosso dalla Scuola di Telecomunicazioni di Caperana. Una due giorni di lavoro a cui interverranno decine di relatori provenienti da tutta Europa. Sentiamo. La cyber difesa è un sistema che bisogna costruire, atto a difendere le nostre reti, le reti informatiche che ormai governano di fatto tutta la nostra vita, difendere queste reti dagli attacchi esterni, dagli attacchi malevoli che intendono creare un danno attraverso questa azione nel mondo cibernetico. Quali sono gli attacchi o comunque i rischi maggiori da questo punto di vista dal cyber terrorismo? I problemi più grossi per gli attacchi cibernetici sono gli attacchi sui centri nevralgici che sono gli snodi per la conduzione di tutte le attività a livello civile, quali per esempio i trasporti, le comunicazioni e la disponibilità di dati, di database rilevanti a livello civile. Quindi non è solo il mondo militare quello che è interessato da questo pericolo, chiamiamolo così, ma anche le infrastrutture civili e industriali, quelle che sorreggono e tengono il paese connesso e operante. La rete diventa strumento di diffusione dell'informazione, a volte anche quella delicata e pericolosa. Occorre comunque anche da addetti ai lavori, da questo punto di vista, essere informati e capire come muoversi. Sì, ci sono moltissimi problemi e c'è moltissimo da fare perché anche noi, diciamo come ordine dei giornalisti, ma anche la normativa in generale del nostro paese è in ritardo rispetto alle nuove tecnologie, alle nuove piattaforme. C'è molto da fare per tutelare chi è oggetto dell'informazione perché ovviamente attraverso il web si possono fare danni alle persone gravissime. C'è un problema di diritto all'oblio, c'è anche un problema di tutelare gli organi di stampa in generale di fronte a fenomeni come quello della diffusione di notizie che vengono succhiate, diciamo così, dai grandi motori di ricerca. Sono state avviate le procedure di trasferimento dagli enti locali ad Anas di alcune strade ex-statali. Oggi a Genova è stato preparato il testo del protocollo d'intesa che delegherà la Regione Liguria ad approfondire al tavolo di lavoro con il Ministero dell'Infrastruttura e Anas quali strade abbiano effettivamente requisiti per poter tornare al patrimonio statale. Nel Levante potrebbero essere interessate dal provvedimento la 225 della Fontana Buona, la 586 della Valle d'Aveto, la 523 del Colle di Centocroci. Oggi in Liguria montano a 400 i chilometri di strade già gestite da Anas che passerebbero a quasi 800 qualora venisse accolta l'intera proposta della Regione Liguria. Adesso passiamo alla cronaca perché un cittadino straniero di 23 anni, residente a Mezzanego, è stato arrestato dai carabinieri di Lavagna per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, fermato nel corso di un controllo, il giovane ha manifestato evidenti segni di nervosismo, cosa che ha fatto insospettire i militari, i quali a seguito di una successiva perquisizione lo hanno trovato in possesso di 200 grammi di hashish e suddiviso in due panetti, 0,6 grammi di eroine e circa 500 euro in contanti provento dell'attività di spaccio. Tutto lo stupefacente e il denaro è stato posto sotto sequestro. Un 22enne di origine straniere, ma residente a Milano, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure per violazione di domicilio aggravata e possesso di sostanze stupefacenti. La scorsa notte a Recco il giovane, in stato di alterazione per assunzione di bevangade alcoliche, si è introdotto all'interno dell'abitazione della madre, anch'essa residente a Milano, nonostante il suo diniego. È stata la stessa donna a chiamare i carabinieri. Nel corso della successiva perquisizione personale, il 22enne è stato trovato in possesso di un involucro contenente marijuana. La Guardia di Finanza di Genova e l'Agenzia delle Dogane, nell'ambito dei controlli effettuati nel porto del capoluogo Ligure, in occasione dell'arrivo di motonavi dal Nord Africa, hanno fermato un furgone proveniente dalla Tunisia, che è condotto da un cittadino francese di origine magrebine. Durante il controllo del mezzo sono stati rivenduti 56 kg di tabacco da Magrile, che erano stati nascosti nei bagagli. Il responsabile del traffico di tabacchi, lavorati esteri, è stato denunciato per contrabbando alla locale autorità giudiziaria. Secondo la stima delle Fiamme Gialle, la vendita del tabacco avrebbe fruttato un utile di circa 5.000 euro. Si è svolta presso il villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno l'annuale riunione dei firmatari della Convenzione per il Centro di Formazione Integrata. Nel corso dell'incontro, a cui hanno preso parte i rappresentanti dei comuni del territorio, della città metropolitana della regione, vengono illustrate le attività svolte per la scuola del territorio nell'anno 2015-2016 e la presentazione della progettazione futura. Noi eravamo presenti, lo vediamo insieme. Perché di questa assemblea annuale che si svolge al villaggio? Allora, ogni anno noi, in riferimento alle nostre attività del Centro di Formazione Integrata, cioè le attività svolte per tutte le scuole del territorio, in favore di famiglie, alunni, scuole, facciamo questa riunione che è la riunione dei firmatari della Convenzione con il villaggio del Ragazzo, proprio per queste attività. Quali sono state le attività di questo anno che andrete ad illustrare? Noi principalmente ci teniamo a dare un progetto unitario, cioè un progetto che accompagni i bambini e i ragazzi in varie realtà e in varie fasi, sia della loro giornata scolastica, sia per quanto riguarda la scuola al nostro interno, diciamo, sia per quanto riguarda tutte le scuole del territorio. Un progetto, diciamo, che si occupa appunto del minore straniero magari in arrivo, quindi nella fase di accoglienza nelle singole scuole, piuttosto che del supporto ai genitori, magari di questo stesso ragazzo o altri genitori del territorio e ai docenti, per riuscire ad accogliere al meglio la persona. Interveniamo poi sull'area dei minori con disabilità o con difficoltà, sui bisogni educativi speciali e tutta la parte laboratoriale. Nel presentare il bilancio dell'attività svolta, voi proponete anche poi quelli che sono i vostri progetti per il futuro. Esatto, noi per il futuro, in base all'attività appunto che proporremo oggi, che sono state e si stanno svolgendo in questo anno scolastico, e in riferimento a quello che sarà poi il 2016-2017, pensiamo di potenziare gli interventi che stiamo facendo, sia qualitativamente che quantitativamente, rendendoli ancora più fruibili per il territorio, cioè dislocandoli maggiormente nelle varie realtà laddove ce n'è richiesta. Chiara Manfredini è la vincitrice dell'edizione 2016 del concorso Credere, non credere. Il progetto è proposto dal servizio di pastorale giovanile della Diocesi che ha invitato i ragazzi a riflettere sui temi dell'accoglienza e del perdono. La sanata finale è stata ospitata presso il centro a Quarone. Noi eravamo presenti. Videoclip musicali, documentari, cortometraggi e fotografie. Con queste tecniche espressive tanti ragazzi hanno partecipato all'edizione 2016 del concorso Credere, non credere, promosso dal servizio di pastorale giovanile in collaborazione con il Villaggio del Ragazzo, l'associazione Don Nando Negri e la fondazione Stella dell'Evangelizzazione, con l'obiettivo di aiutare i ragazzi a riflettere sui valori più importanti della loro vita. Nell'anno santo della misericordia sono state messe al centro alcune parole chiave come perdono, accoglienza e compassione, temi che i ragazzi hanno sviscerato con profondità, originalità e attenzione. Il primo premio assoluto è andato a Chiara Manfredini per una foto scattata durante la festa di compleanno di un amico diciottenne. La foto si intitola Il sorriso in uno sguardo e gli occhi sono quelli della mamma del ragazzo, al quale alla nascita era stata annunciata una breve speranza di vita. Chiara è stata accompagnata a questa festa dal papà Luca, pediatra. La madre di questo ragazzo è amica di mio padre e ci ha invitata al compleanno di Paolo. E allora ho deciso di fare queste foto per questo progetto perché mi intrigava molto e mi piaceva l'argomento. Durante il pranzo sono stata lì con la macchina un po' di tempo e fotografavo tutti i momenti in cui lui era felice, in cui era circondato dalla gente e mi è capitata questa foto e mi è piaciuta molto. Allora l'ho messa tra le foto che ho dato al concorso. Le parrocchie di Santa Margherita Ligure si preparano alla solennità di Pentecoste con una tre giorni di esercizi spirituali che si celebreranno nella chiesa di Santa Margherita e a casa Monsignor Solimano. Da questo tempo di preghiera e di ascolto scatturerà il nuovo consiglio pastorale delle tre parrocchie cittadine. Vediamo. Santa Margherita come si prepara alla festa della Pentecoste? Dall'anno scorso nel desiderio appunto di rivalorizzare questa festa che la sentiamo alla pari del Natale e della Pasqua ma che rischia di essere un po' dimenticata. Tre giorni, mercoledì, giovedì e venerdì, viviamo come un triduo di preparazione all'interno del quale collochiamo, li abbiamo chiamati esercizi spirituali, c'è un tempo intenso di ascolto, preghiera, riflessione e fraternità. Mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13, chi verrà a parlare e quali saranno i temi della riflessione? Sì, verrà Don Severino Dianic, teologo di Pisa, esperto proprio di ecclesiologia. Lui chiediamo di essere aiutati a raccogliere, da un lato nel cammino dalla lezione divina sugli atti degli apostoli, l'episodio che racconta il primo concilio della Chiesa a Gerusalemme. Dall'altro l'input forte che il convegno ecclesiale recente di Firenze ha dato alla nostra Chiesa, appunto il tema della sinodalità, in vista anche del rinnovo dei nostri consigli pastorali. In questo senso quale vuole essere il cammino futuro per la città? Il cammino futuro vuole essere proprio raccogliere questa sfida importante della sinodalità e fare un unico consiglio pastorale cittadino delle tre parrocchie, che effettivamente funzioni come motore un po' nella comunità, portando davvero a concretezza quello che è appunto il riferimento biblico del primo concilio e questo input forte di Papa Francesco sul camminare insieme. In questi tre giorni le meditazioni saranno in casa Monsignor Solimano intorno alle ore 19, poi ci saranno anche momenti così conviviali per stare insieme? Sì, beh, si comincia con la messa per tutti in Basilica alle 18, la meditazione all'oratorio al Pozzo di Sicari alle 19, poi la cena anche per chi si può fermare, e dopo cena una prima sera la testimonianza di chi della nostra diocesi è stato al convegno di Firenze, la seconda sera una veglia di preghiera, l'ultima sera un momento di scambio e condivisione finale dopo tanto ascolto. Come viene gestito il patrimonio immobiliare della casa di riposo Pietro Torriglia e a che punto sia il progetto di ampliamento della struttura? Lo chiedono al sindaco un'interrogazione i consiglieri comunali Rombolini e il Lago Marsino del gruppo Avanti Chiavari. I due consiglieri di opposizione fanno riferimento al mancato utilizzo degli immobili dell'ex campeggio Preli, dell'ex canterino navale Victor e del palazzo Torriglia, recentemente liberato dagli uffici comunali. Si chiede inoltre come sia stata scelta un'agenzia immobiliare di Genova per la gestione del patrimonio dell'ente. La Presidente della Proloco di Uscio, Bruna Terrile, è stata riconfermata per il terzo mandato consecutivo Presidente regionale dell'UMPLI, che è l'Unione Nazionale Proloco d'Italia. L'Assemblea regionale, che si è svolta domenica a Recco, con la partecipazione dei delegati nazionali, Terrile è stata inoltre letta consigliera nazionale in rappresentanza della Regione Liguria. E ora, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per i prossimi giorni. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per mercoledì 11 maggio. Luisella Battaglia sarà ospite dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 a Villa Queirolo tratterà sul tema le metamorfosi, transizioni tra i regni della natura. Lezione di storia del territorio ai corsi di cultura di Chiavari con Cesare Dotti, che alle 16.10 nella sala livellara trà una lezione dedicata agli aspetti storici, tradizionali e lessicali della Sigogna. Alle 17 al Circolo Golf e Tennis di Rapallo ci sarà la premiazione del campionato disabili che si è svolto in questi giorni con la partecipazione di oltre 50 atleti. Al Teatro Cantero di Chiavari, quinto gran galà della Fisarmonica con gli allievi della scuola di Enrico Roseto presenta la serata Luigi Colombini, il tutto con inizio alle 20.45. Ricordiamo che a Sestre Levante, nei locali di Palazzo Fasci, è allestita la mostra a ricordo di Edoardo Boa, cura dell'Associazione Culturale Uleudo. La mostra si può visitare fino a giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Schiera degli appuntamenti che questa sera è stata curata dal nostro Andrea Capitani. In occasione dell'ultima partita casalinga di questo campionato di Serie B, quella che vedrà di fronte la Virtus Entella Chiavari impegnata contro l'Avellino sabato prossimo alle ore 15, la società Bianco Celeste invita tutti i tifosi a andare allo stadio con la propria sciarpa per vestire a festa il comunale di Via Gastaldi. In mattinata intorno alle 11.30 di sabato prossimo tutti i club bianco-celesti sono convocati presso la sede del settore giovanile nella colmata Mara di Chiavari per ritrovarsi e vivere insieme il pre-partita prima del trasferimento allo stadio, dove tutti i tifosi troveranno ad attenderli in ogni settore del comunale una sorpresa firmata appunto Virtus Entella. Lions Day alla scuola Davide Spinetto di Mezzanego. Dopo la cerimonia per l'ingresso dei nuovi soci, si è inaugurato un ambulatorio ortottico intitolato a Maria Luisa Costa e sono state raccolte offerte per la Banca degli Occhi Melvin Jones. All'iniziativa è dedicata la puntata di questa sera di Si può dare di più che andrà in onda alle 21.10 su Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando. Vediamone un'anticipazione nel servizio che segue. Per noi è un grosso traguardo perché noi nel mio mandato ho cercato di aumentare sempre la visibilità dei Lions che sono sempre più presenti sul territorio e iniziative come queste favoriscono l'integrazione tra Lions e istituzioni. Oltretutto il nostro motto è We Serve oppure dove c'è un bisogno c'è un Lions e penso che questa sia la manifestazione migliore che si possa esprimere questo nostro motto. Un laboratorio di oculistica in ricordo di sua moglie. Esatto, un ricordo di mia moglie che lei ha sempre dedicato la sua attività ai pazienti in particolare ai bambini, voleva anche bene a mezzannego. L'abbiamo già vista in pratica perché abbiamo visto visitare un bambino. Esatto, sì, stamattina era previsto che venissero visitati da parte di ortotiste che tra l'altro il dottor Paolo Cavagnaro molto cortesemente ci ha messo a disposizione due ortotiste e hanno visto i bambini, hanno fatto un esame screening ai ortotici ai bambini di quarta e quinta elementare. Siamo partiti con le aziende sanitarie locali Liguri e abbiamo stipulato convenzioni con quasi tutti gli ospedali sia della riviera di Ponente che della riviera di Levante. Ci stiamo allargando, abbiamo stipulato una convenzione con la clinica di Udine e cerchiamo di mandare le nostre corne che a livello tecnico sono considerate dagli operatori le migliori in questo momento in trattamento e ci vengono richieste anche dalla Spagna. Tutti quanti possiamo donare e poi quando servirà c'è una banca che può consegnare? Questo è un argomento molto importante perché purtroppo il senso della donazione degli organi in Italia è a livello zero. Cosa bisogna fare però? Bisogna iscriversi, iscriversi o in comune e far registrare sulla propria carta d'identità la volontà di essere un donatore di organi e tessuti o iscriversi all'Aido. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento con l'informazione è rinnovato a domani alle ore 12.45 con il TG13. Vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente. Grazie per essere stati con noi, una buona serata a tutti. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.